ragazzi a chi facesse piacere anche se è gratis lo devo sottolineare like e descrizione al canale lo so che non sei obbligato stai calmo anche se è gratis fai come ti pare se ti fa voglia ti iscrivi altrimenti va bene uguale non ci sono problemi te lo ripeto concludendo il discorso dello stadio perché qui si sta parlando di una roba che non esiste il vincolo il vincolo ad oggi non esiste non c'è nessun vincolo potrebbe essere messo dal 2025 lo ripeto per l'ennesima volta indipendentemente da quello che accadrà per me l'inter io sono della rimango della stessa idea per me l'inter farà di tutto per rimanere a san siro perché con tutto il rispetto per rozzano un conto è giocare a san siro è un conto lì a milano è un conto è giocare a rozzano e voi abitate a milano lo sapete meglio di me poi giusto ci si arriva bene ci passo perché porto a scuola mio nipoto sì ma puoi mettere san siro la zona lo stadio cioè veramente un monumento ormai san siro con giocare a rozzano mandiamoci mila a rozzano e dici non esiste nessun vincolo state parlando di robe che non esistono non c'è sfido chiunque a portarmi la documentazione di questo vincolo non c'è lo vogliono mettere nel duemilaventicinque perché prima non si può mettere ed è solo ripeto ed è solo un modo per non far per assicurarsi che san siro non venga abbattuto da sgarbi e dalle belle arti cosa dice questo vincolo devo fare dieci posti meno cosa dice questo vincolo cosa dice ci devo fare un ristorante cosa dice questo vincolo devo fare blu cosa dice questo vincolo nulla perché non esiste normale la situazione non è delle più semplici ci mancherebbe io non ti sto dicendo ma c'è un progetto per la ristrutturazione di san siro che ha costato un milione e rotti di euro e ora hanno presentato un semplice progetto lì a rozzano dove sta la verità secondo me la verità sta nel mezzo però cari ragazzi concludendo sempre il discorso dello stadio qualcuno forse si è dimenticato che non nel lontano marzo duemilaventuno nel vicino marzo duemilaventuno accadde questo qualcuno di voi forse se l'è scordato e poi arriviamo al punto lo scontro sullo stadio di san siro tra sala e l'inter ve lo ricordateci fu lo scontro zang si incazzò perché sala addirittura disse ma io vi dello stadio chi devo parlare che zang era scomparso non c'era più ma non disse solamente questo sala attenzione ragazzi fatemelo fare anche a me giornalista per un giorno fatemi trovare l'ebrezza lo fanno tutti si mettono ora va di moda mettersi a leggere la roba su youtube lo posso fare una volta anch'io però è assolutamente un piacere una volta dopo la durissima risposta nera azzurra lo stop di sala marzo duemilaventuno attento al nuovo stadio per le questioni societarie perché sala ha dei dubbi ha dei dubbi su questi marzo duemilaventuno sala disse qui non ci sono non avete garanzite dove volete andare in cinese disse sala lite dove dopo la durissima risposta nera azzurra lo stop di sala nuovo stadio per le questioni societarie all'inter la politica milanese si spacca la furibonda reazione dell'inter alle parole del sindaco di milano beppe sala che sostanzialmente annunciava uno stop sulla questione del nuovo stadio di san siro in attesa di capire quale sarà in futuro l'assetto proprietario del club nera azzurro ha scatenato un putiferio hai capito cosa voleva sala in attesa di capire quale sarà in futuro l'assetto proprietario del club nera azzurro ti sto parlando di ci sono articoli ovunque marzo duemilaventuno vai a cercarteli il sindaco addirittura si è parecchio sorpreso della reazione anche perché in fondo la linea del comune di milano resta sempre la stessa prima di proseguire con le pratiche palazzo marina vuole sapere chi sono i partner tutto era iniziato quando qualche consigliere comunale aveva avanzato dubbi sull'altra sponda calcistica la misura camerale lussemburghese incrociata con la lettura dello statuto poteva fornire già queste informazioni perché sala aveva dubbi anche sui milan e sul fondo eliot vi ricordate sul fondo eliot in forza delle sue azioni di serie a e non i due finanzieri italiani giù a luca davanzo e salvatore cerchione vi ricordate c'erano i due signori del milano poi anche lì si apre un mondo lasciamo perdere ma sala aveva dubbi sia sull'inter e sul milan a livello da qualche tempo si parla sempre più incestatamente il fatto che nessuno che proprietaria dell'inter stia cercando un partner di minoranza si ciao mamma da 2021 a 2023 nessun pazzo ovviamente è entrato nell'inter come social minoranza o le vuote impegno perché le vuote dell'inter sono impegno per un 99 per cento e soprattutto non entra nessuno ad accollarsi i debiti di un altro perché l'inter i debiti dell'inter sono quasi doppi rispetto all'asset al valore dell'inter perché l'inter vale sui l'inter compresa tutta la squadra la pinetina vale sui 650 milioni i debiti sono i debiti passano il miliardo perché chi acquisisce una società si deve far cario dei debiti e dei crediti poi tra l'altro zanghe va a parlare con sala per lo stadio questo dice l'ultimo bilancio e sfido chiunque a dire il contrario non voglio parlare male di nessuno non voglio criticare di nessuno perché sto dicendo delle cose certificate sfido chiunque a dire il contrario ce lo vedo zanghe a parlare con sala dopo marzo 2021 ti parlo di ora dopo che l'inter ha 31 milioni di debiti con il comune di milano per l'affitto dello stadio non pagato mi sono spiegato sala la risposta di sala siamo sempre a marzo 2021 lei puoi trovare io ho preso un articolo e racchiudeva un po' meglio quella diciamo quella lite perché ci fu una lite tra zanghe e sala che sala gli ha detto dove vuoi andare te dove vai ma quale stadio con il ego lo vuoi fare lo stadio dove sono le garanzie finanziarie sala si trova già due anni fa davanti comunque un presidente che non ha modo di garantire per la costruzione dello stadio perché lo sponsor entra do entra dopo ma all'ente pubblico e al general contractor e l'hai visto ora con il milan vatti a prendere l'articolo di agio e finanza all'ente pubblico e al general contractor le garanzie le deve fornire il proprietario del club maggiore azionista chiamalo come ti parlo così arriva risposte penso e finché questa è sala penso e finché in particolare l'interno chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme il punto è che non stiamo parlando solo dello stadio voglio dirlo con chiarezza ai milanesi stiamo parlando di un progetto in cui la metà dell'investimento è sullo stadio e la metà è su altre cose che portano a comporre il futuro di quest'area ci saranno presumo cinque sei anni di lavoro io non posso affidare un quartiere della città per un periodo così lungo ad una realtà di cui non ha certo il proprio futuro attenzione alle parole di sala marzo duemilaventuno si può essere favorevole o contrario al progetto ma quello che sala ha chiesto è che l'inter chiarisca la propria posizione dia garanzie sul futuro marzo duemilaventuno quindi se continua ancora e sala poi dopo ci sono c'è la risposta di sala e gli dice non avete le garanzie aspetto le garanzie non ci sono le garanzie l'inter ad oggi quando io sento parlare di stadio con questa proprietà mi viene da ridere questo non lo dice nessuno questa proprietà non ha la minima garanzia per fare uno stadio né per ristrutturarlo e né per costruirlo se non con i lego con i lego può fare mille stadio anche se i lego costano le compro sempre i miei figli ci siamo capiti oppure no perché sala ad oggi chi avrebbe davanti come interlocutore interlocutore ha un proprietario pieno di guai finanziari e pieno di debiti che non ha la possibilità di ricapitalizzare io ragazzi vi ricordo era tanto ora non dicevo queste cose nel miglior anno della storia dell'inter per incassi questa è una società che ha perso ottantacinque milioni e sono piovuti veramente soldi da da dappertutto quest'anno tra la champions anche se digital biz non ha pagato ma sono arrivati cento milioni dalla champions nonostante tutto l'inter perde ottantacinque milioni è impossibile andare avanti in queste condizioni perché nonostante tutti i soldi della champions l'inter ha perso comunque sette milioni al mese e l'inter normalmente perde dai 15 ai 18 milioni al mese non non hai ormai siamo arrivati alla frutta non si può più andare avanti così l'acquisto di Pavard ci ha fatto un attimino respirare tutti però ragazzi bisogna ritornare sulla terra ma quale stadio lo stadio di chi con chi lo stadio situazione di Sanzino non è semplicissima ci mancherebbe ma io sono un vinto e sala con Zancho non ci parla nemmeno per lo stadio per cosa ci deve parlare per lo stadio sala sta aspettando sta aspettando una nuova proprietà parliamoci chiaro a marzo 2021 gli ha detto te dove vuoi andare con lo stadio ma quale stadio ma cosa vuoi ragionare te poi dopo poi dopo hanno fatto il minestrone l'ha buttata in caciara il cinese la storia dell'inter te Zancho la storia dell'inter non c'entri nulla non c'entri niente anche perché il prestito è stato garantito dall'inter non da te perché se era per te nemmeno nemmeno i soldi di ottri si beccava parte anche lì poi dopo c'è si apre un mondo di cose già dette ridette trite la cosa positiva è che comunque sono tornati tutti da stanno tornando tutti dalle nazionali scusate ma ancora ho un po' di guardi gola fortunatamente non c'è stato nessun infortunio Lautaro ha giocato uno spicchio di partita quindi anche lì per l'altezza pesante giocare ragazzi si avvicina il derby e vediamo quello che succede mettere un derby comunque hanno fatto un calendario veramente scandaloso poi ti viene da pensare male Pogba su Pogba ragazzi le analisi non vanno fatti a Pogba le analisi vanno fatti non solo a Pogba le analisi vanno fatte delle urini anche a chi l'ha comprato Pogba perché la Juve prende Pogba fa un investimento mastodontico a livello di ingaggio e commissioni alla gente ma va a prendere comunque un giocatore che era un anno e mezzo e non giocava di cosa vuoi ragionare quindi analisi fatene anche a chi l'ha preso Pogba ciao